A parte le cose e gli argomenti di questa sera, lei ha fatto tantissimi video, io ne ho visti parecchi e sono d'accordo con lei su tantissimi aspetti e quindi è inutile che mi dilungo sugli aspetti in cui sono d'accordo, c'è una cosa che mi lascia perplesso. E' questa, ci sono tante altre persone che io ritengo abbastanza credibili e anche tanti personaggi che ritengono gli aspetti ufologici anche negativi, quindi col sistema dell'abdaction, inserimento nel corpo e anche da un punto di vista culturale per esempio nel mondo hindu, Puideva, Yasura, quindi aspetti positivi e negativi. Mi sembra di vedere che lei invece ha soltanto questo aspetto positivo. No, te lo spiego Stefano. Allora, intanto dobbiamo partire da delle ipotesi. Se ci sono quelli negativi ci sono quelli positivi. Quindi, come nel pianeta Terra, ci sono i criminali e le brave persone. E poi c'è un potere militare che si chiama polizia, carabinieri, guardia di finanza che cerca di mantenere l'equilibrio. Ora, se in un mondo corrotto e devastato come il nostro esistono i poteri per restabilire l'ordine, tu pensi che nell'universo non ci siano i poteri per impedire ai fuori di testa, ai mafiosi di altri mondi di viaggiare nell'universo? Certo che ci sono. Punto uno. Secondo, la storia dell'umanità è una storia ininterrotta di catastrofi. Nessuna società supera le migliaia di anni di sopravvivenza. Sono caduti tutti. I greci, gli egiziani, i romani, i sumeri, i somari, eccetera, eccetera. Ora, quindi per logica, nel momento in cui io ti parlo di scienza dello spirito, se c'è la legge di causa ed effetto ed è una legge universale, le società si autodistruggono nel momento che scoprono la scienza e non la usano su base etica. Quindi una società negativa, coesa per invadere gli altri, è un'emerita sciocchezza. I ladri si mettono d'accordo per entrare in casa, ma poi si prendono a legnate per dividersi il bottino. Il male funziona così. Lo vediamo negli Stati Uniti che sono dilaniati da una guerra civile interna tra i poteri. Quindi, siccome i tempi per arrivare alla tecnologia aerospaziale sono elevatissimi, ma Stefano, noi ci dimentichiamo sempre di una cosa importante. La tecnologia aerospaziale non è la base fondante del volo interstellare. La base fondante del volo interstellare è la scienza medica, perché non puoi a un milione di anni luce dalla Terra portare l'astronauta che sta male alla croce verde. Quindi la barriera insormontabile per i voli spaziali è il dominio della salute dell'essere umano, biologica e psichica, perché non è facile stare lontano dal tuo mondo per molto tempo, chiuso in uno spazio ristretto, per grande che sia. Quindi ci sono tutta una serie, Stefano, di considerazioni che noi non facciamo e che questi millantatori di falsità strumentalizzati o, peggio, mi sento pagati, non ti dicono. E noi siamo talmente infarciti di stupidaggini e col neurone bloccato e non sappiamo ragionare in termini concreti. Quindi esiste una polizia potentissima laddove qualche scemo esce fuori dal loro mondo. Poi c'è la legge di causa ed effetto. Gli esseri divini, nel momento che accettiamo che Cristo esiste ed è re dell'universo, un re ha le sue armate, lui lo dice, io, se volessi, gli dice a Pietro, più di dodici legioni di angeli. Sai quanti uomini sono, dodici legioni? Più di settantamila. Quindi c'è tutto un ragionamento serio e concreto che noi non facciamo quando discettiamo di queste cose e ci facciamo merare il naso da pseudo esperti. Ora, se l'Italia non è venuta a capo delle grandi stragi, manco quella di Portella della Ginestra col bandito Giuliano, perché i servizi segreti impediscono di arrivare ai veri mandanti, che guarda caso i bossoli della strage di Portella della Ginestra erano americani, quindi mi sa che nemmeno è stato Giuliano a sparare su quella manifestazione di sinistra. Quindi, se come dice l'agente segreto, la verità sugli UFO fa cadere il sistema, ma quanti soldi, quante strutture, quanti troll, quanti debunker pagano per inquinare questa realtà e far sì che il popolo rimanga disunito nella lotta positivi e negativi. È vero che gli alieni negativi esistono, ma sono nei loro mondi, da un caos all'altro, come noi, devastati dalla legge di causa ed effetto, se non si evolvono su base etica e si autodistruggono prima di arrivare al volo stellare. Se riescono ad arrivarci, c'è la polizia che li blocca, che ci sono leggi e poteri potenti. Dio, mica è scemo nel governare il suo regno. Se è onnipotente. Ora, se noi usciamo, Stefano, dalla sciocchezza dei credo religiosi che ci manipolano e ci dividono e ne entriamo nelle logiche scientifiche, capire queste cose è molto facile. Grazie.